Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi parleremo di questo fumetto ristampato dalla Editorale Cosmo di fine anni 70 che praticamente vede alla creazione Giuseppe Pedriali e ai testi Rubino Ventura con i disegni di Leone Frollo. Il fumetto è fun nella foresta dei mostri, questo primo numero che praticamente è del fumato Pocket che praticamente ci accompagnerà in teoria per otto numeri, anche se in realtà la serie era da sei. Comunque trovate nell'introduzione tutte le spiegazioni nel caso che lo comprate. Allora ragazzi, io l'ho preso più che altro per curiosità. Allora ragazzi, ovviamente qua la trama è abbastanza classica, c'è questo principe che si chiama appunto Fan che vive su questo pianeta. Eccolo qui. Dove ovviamente giunge un suo vecchio amico che si chiama Ganor che gli dice che c'è un suo altro caro amico, Vax, che praticamente su un altro pianeta che si chiama Terra Giovane ha preso il potere però è una specie di dittatore e quindi la galassia interestellaria potrebbe trovarsi in grave difficoltà. Insomma, difficoltà, in grave pericolo più che altro. E quindi il caro Fan decide di partire alla volta del pianeta di Vax per, insomma, avere un colloquio con lui. Allora ragazzi, come potete vedere già dai disegni, siamo a fine anni 70, quindi disegni abbastanza classici. Nonostante Frollo abbia uno stile non proprio vetusto, insomma, anzi, devo dire che, come vedete, come disegna anche le astronavi. Cioè, non è così vecchio stile, si vede ovviamente, però insomma, ci trovo, vedete, guardate come sono fatte bene le varie astronavi. Cioè, comunque ci sta. Poi il nostro partirà accompagnato anche da un androide, neanche chiamato robot, androide addirittura lo chiamano, che a me sembra una sorta di cico praticamente. Sembra ovviamente una sorta di cico, eccolo qua. Il cico dello spazio per me è questo, eccolo qua. Cioè, ha qualcosa di cico, non lo so, entrambi mi sembra una sorta di zagor dello spazio e un cico androide. Cioè, ovviamente questa è una mia sensazione, poi magari a voi non vi sembra. Ragazzi, ovviamente poi dopo cosa succede? Lui arriverà su questo pianeta, sul pianeta di Pax, dove poi alcuni soldati che lo prendono per portarlo da lui, poi lo scaraventano, scusate, in questa foresta dove veramente lo vogliono, ci sono tutti questi mostri giganti che lo vogliono ovviamente uccidere, insomma. Già, dice, vabbè, perché non l'avete uscito direttamente voi, perché buttavano nella foresta, quindi già. Che poi lui lo dice anche, dice, ci hanno messo qua per farci soffrire, ma fondamentalmente è un pretesto narrativo, insomma, per creare questa avventura. Un po' me, secondo me. Questo è lo scontro con questi mostroni, come potete vedere, eccolo qua. Scusate, ragazzi, è sempre riflesso, ma le tavole si vedono. Ragazzi, e poi ovviamente si troverà in questa foresta, poi combatterà con questi mostroni, ci sta pure in pipistrello gigante, insomma. Vedete, allora, la lettura è abbastanza scorrevole, non ci sono tanti dialoghi, nonostante l'età è molto più fruibile di tanti altri fumetti che ho letto. I disegni, ripeto, sono abbastanza carini. Certo, la storia è vista e rivista, cioè non è niente di eclatante, cioè non è che, dici, presto a leggere un fumetto molto rinomato, molto particolare, in linea di come tanti altri, insomma, si leggono. Io, sono sincero, sicuramente non la continuerò, perché otto numeri per un fumetto del genere, sinceramente. Poi, vabbè, ci sono gli appassionati che magari solo leggono, ma io sinceramente, cioè, cinque euro per otto di questi volumetti qua, sinceramente, ne faccio bene anche a meno. Perché comunque, trama, vista e rivista, storia che non è una pietra miliare, cioè non ci sono chissà anche che riferimenti, neanche al sociale, cioè... Una classica storia ambientata in uno spazio fantascientifico, con, ovviamente, la classica pistola che spara, cioè... Classico nemico alla... ma neanche alla Star Wars, cioè veramente... Veramente una lettura abbastanza, secondo me, saltabile, cioè niente di eclatante, neanche di che ti diverti, chissà quanto, perché comunque tu lo leggi in venti minuti, venti cinque minuti, tu lo leggi. Vedi cose viste, riviste. Cioè, l'ho provato a provare, ma... Tanto per curiosità, tanto per leggermi un po' di fantascienza retro, però, insomma, qua, siamo veramente... A parte un po' i disegni che sono carini, però, insomma, i protagonisti, secondo me, sono fuori tempo massimo, cioè... Cioè, quindi, io, eh... Sono sincero, non è che lo consiglio, però se volete provarlo, fate come pare, cioè, guarda qua, quando cavalca su sto coso così, sembra un po', un po' cringe. Ovviamente, ragazzi, il fumetto anni settanta è fatto a scena, fino a anni settanta, uno che si può aspettare, cioè, quello è, cioè, non è che... Ma neanche io mi aspettavo chissà cosa, però, l'ho voluto provare. Ci ho fatto il video, tanto perché comunque lo volevo, mi interessava farlo. E ragazzi, questo, puoi vedere, sono classiche tavole, tipo, alla storia diabolic, cioè... Quindi, ragazzi, neanche a di che ci spendo tanto, perché fondamentalmente è una vettura schippabile, niente di eclatante, è una fantascienza di serie B, diciamo, diciamo, le serie B, neanche a di che ti diverti chissà quanto, perché, cioè, fondamentalmente poi diventa un'avventura nella foresta, cioè... Le astronavi le vediamo all'inizio, per carità, disegnate per il tempo che fu, ci stanno. Però poi, una volta che arrivano sulla foresta, diventa il sacro del ciclo, un'altra foresta, cioè... Cioè, guardate qua, sto a far vedere tante tavole per farvi avere un'idea, cioè... Una volta letto, diciamo, beh, ho letto, ma che mi è rimasto? Niente, cioè, magari i cinque romi risparmiamo per un'altra cosa. Quindi sicuramente non lo continuerò, non lo continuerò, vedete qua. Cioè, c'è di molto meglio, ragazzi, cioè, c'è veramente di molto meglio. Magari per un fan della fantascienza retro, oppure perché magari gli piacciono, ne so, poi ognuno fa come gli pare, insomma. Però sicuramente, vedete qua, così fan tutto. C'è pure nel finale delle citazioni, appunto, a Guerre Stellari, come diceva all'inizio. C'è pure le citazioni a Flash Gordon, insomma, tante di quelle cose, viste, riviste. E qua, ragazzi, non vuoi perdere niente, cioè... Io non lo consiglio, sono sincero, non lo consiglio soltanto se sarei proprio strameca fan, vuole avere... vi piace l'autore, insomma, non lo so. Io non ci trovo niente di gradante, niente di veramente interessante. Ma se i dialoghi fossero stati come quelli vecchi, anni 70, chi ti lasca lì, ho buttato proprio, cioè... Si si salva che non ci sono queste ti lascalie e la narrazione è abbastanza fruibile. Infatti questo mi ha... ho detto, meno male, a me l'ho letto, non mi sono incavolato, nel senso non mi ha fatto di mar de testa. Però, ragazzi, ci sono scene abbastanza cringe, come quando combatte, appunto, con il pipistrello grosso, gli fa... C'è va a dare qua. Cioè, ovvio, c'è va a dare qua. Ragazzi, anni 70, fino anni 70, cioè, quello è... non è che... non è neanche... cioè, è un dato refatto. Quindi, ragazzi, quasi dieci minuti di video, penso che possano bastare, perché avete capito il mio disagio verso questa lettura di serie B. Qui, non... assolutamente non interessante, non... Il prossimo numero sarà, in edifico, il 17 febbraio, il pianeta giallo. Già la coperta, insomma, ci fa presagire a quello che potrebbe essere, magari si tratteranno lo spazio. Non lo so, poi sono sei numeri con due aggiunti. Vabbè, l'edifico del Cosmo comunque ci porta sempre titoli interessanti. Questa qui, fondamentalmente, può essere una chicca, perché magari... Era da tanto, non mi era ristampato. Insomma, so, quelle letture particolari di genere, d'autore, vecchia scuola... Che, sì, possono essere interessanti, ma non sono, secondo me, letture che, cioè... Sono per appassionare del fumetto, perché magari, come negli anni 70, certi autori impostavano questi fumetti di fantascienza, Perché magari c'erano quelli che, tutti quanti uguali, magari, Frollo, aveva quel qualcosa in più nella laborazione delle tavole, Però, insomma, vi ripeto, è saltabile. Non è che se non lo comprate, vi è stato a perdere il capolavoro della vita. Cioè, vi ristrommate di 5 euro. Però, ripeto, se siete interessati, fate come vi pare. Magari provatelo. Io, il primo numero, mi è bastato per capire che... Cioè... Cose viste e riviste, anzi... Certe, ripeto, anche abbastanza cringe sotto certi aspetti. Ripeto, mi sembra di avere Zagor e Chico. Non lo spazzite, questo qua mi sembra... Ecco, poi, la tutta questa qua, ditemi ragazzi, se vi sembra... Guardate qua, se si vedete... Cravener Cacciatore, cioè, questo qua sembra... Il vestito di Cravener Cacciatore, guardate un po'. È lui, oh! È lui! Ragazzi, detto questo, io vi consiglio di imprendere. Però, poi, fate come vi pare. Per me è un no secco. Cioè, un fumetto da 5. 4,5-5. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate comunque, perché ci scambiamo le idee e le opinioni. Vi mando un grosso abbraccio. Se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al mio canale. Come faccio sempre e come vi dico sempre, ci vediamo al mio prossimo video. Ecco. Ecco. Ecco.